Buon pomeriggio da ora Tg, la politica in primo piano, una a due giorni catanese per il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia. In primo piano, fra i temi affrontati, il dissesto al comune e la presenza delle forze dell'ordine nel territorio, oltre alle oramai imminenti elezioni europee. Sentiamo Mario Grasso. Stefano Candiani, plenipotenziario della Lega in Sicilia, due giorni a Catania, certamente per parlare di politiche europee in vista delle elezioni del 26 maggio, per spiegare il risultato della Lega alle scorse elezioni per il rinnovo delle amministrazioni cittadine, soprattutto di Gela e Caltanissetta, dove i candidati di quel partito sono stati sconfitti al ballottaggio, ma ancora più, visto che siamo a Catania, per trattare il tema del dissesto. Prima un incontro con il prefetto Claudio Sanmartino, poi con il sindaco Salvo Pogliese. L'impegno che ci stiamo mettendo è determinato, ne ho parlato ieri col prefetto, ne ho parlato col sindaco, ci siamo incontrati la settimana scorsa. Ecco, avremmo bisogno che la stessa condivisione che noi stiamo dando per la risoluzione dei problemi fosse estesa a tutto il governo. Abbiamo in questo momento dei provvedimenti in corso, stiamo ovviamente in maniera determinata andandoli a sostenere. I tempi sono importanti, dobbiamo stringere e dico anche che i catanesi si stanno veramente relazionando in maniera molto, molto corretta. La situazione che stanno vivendo i cittadini a Catania, la situazione che stanno vivendo i dipendenti del comune, è una situazione che rispetta, è una situazione che riconosco in tutta la sua drammaticità. L'obiettivo è riuscire a dare una risposta nei prossimi giorni, riuscire quindi con un provvedimento che non tratti come era stato apprendato al governo solamente Roma, ma che tratti anche come noi abbiamo richiesto anche Catania e gli altri comuni in dissesto. Perché non ci si può dimenticare che questa è un'economia che dal dissesto del comune può totalmente avere dei problemi e quindi non risollevarsi più. È necessario ripartire. Cambiana annuncia che il prossimo 21 novembre il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Catania per celebrare l'ottantesimo del Corpo dei Vigili del Fuoco, manifestazione nazionale che appunto sarà ospitata dalla città dell'Elefante. Il vice di Salvini al Ministero dell'Interno spiega pure di aver incontrato in città i vertici delle forze dell'ordine in vista del rinnovo della logistica che prevede il trasferimento delle caserme in alcuni degli edifici dismessi recentemente dalle strutture sanitarie regionali, come ad esempio il Santo Bambino o il Vittorio Emanuele, su cui si sta lavorando per adottare un progetto che possa essere confacente alle esigenze. Etna, 26 dicembre dello scorso anno, il terremoto 11, i comuni, a vario titolo terremotati, si attendono ancora alle risposte concrete del governo dopo la fase emergenziale. Nella mia delica non c'è ovviamente quella del terremoto, essendo sottosegretario all'interno, però allo stesso tempo stiamo sollecitando al sottosegretario che ha delica in questo caso tutte le azioni. Non solo per i comuni terremotati, ma anche per l'indotto, perché è chiaro che è una questione che si lega a un territorio e che sta soffrendo anche una crisi economica. Abbiamo necessità che anche la Regione si metta al tavolo e tutti i soggetti siano attivi. Non è solo una questione di risorse per la ricostruzione, ma anche questione di regole che devono rendere la ricostruzione veloce. E domenica si voterà per eleggere il nuovo presidente del circolo di Sant'Agata, secondo i criteri del nuovo regolamento tra i candidati Alessandro Sicurella, il cui nome figura tra gli intercettati di un'inchiesta antimafia, pur non essendo quest'ultimo indagato. a sollevare il caso il Comitato per la legalità della festa di Sant'Agata. Sentiamo i particolari. Domenica prossima inizierà il procedimento di elezione dei nuovi consigli direttivi delle associazioni agatine. Per la prima volta verranno seguiti i dettami dello statuto approvato recentemente dall'arcivescovo di Catania Cristina, tra gli obiettivi garantire la massima legalità all'interno delle associazioni che sono parte integrante della festa. Per tal motivo stamattina il Comitato per la legalità della festa di Sant'Agata ha indetto una conferenza stampa per chiedere come le autorità ecclesiastiche intendano muoversi circa una criticità che sarebbe emersa anche attraverso un'inchiesta giornalistica. Secondo quanto evidenziato dal Comitato per la legalità della festa di Sant'Agata, il nome dell'imprenditore Alessandro Sicurella, pur senza problemi pendenti con la giustizia, emergerebbe dalle intercettazioni effettuate dai ROS nell'ambito dell'operazione Caos, circa condotte estorsive, il recupero di crediti contro soggetti esercenti attività imprenditoriali. Si tratta di un'operazione che, come è stato ricordato questa mattina, scardinò il clan Santa Paola con l'arresto di 30 persone, tra queste Luca Marino intercettato in conversazione con Sicurella che gli avrebbe chiesto di ottenere la restituzione di un credito di 700 euro da un negozio. Sicurella è uno dei candidati alla presidenza del Circolo Sant'Agata alla collegiata. Una data importante perché queste elezioni si svolgono con il nuovo statuto e sono veramente un passo avanti verso la legalità nella festa di Sant'Agata. Consideriamo molto importante anche il regolamento emanato dal coordinamento per le celebrazioni, quindi questi due regolamenti fanno ben sperare per la festa. Purtroppo c'è qualcosa che è saltato all'occhio, grazie anche a un'investigazione del giornalista De Luca di Medio News, è saltato all'occhio che uno dei due candidati alla presidenza del Circolo di Sant'Agata, il signor Onofrio Alessandro Sicurella, pare che abbia chiesto l'aiuto del clan Santa Paola per un credito non saldato di un negozio in via Concordia, un negozio a mille. Pare quindi che questo signor Sicurella si sia rivolto a Luca Marino, che è il capo per Santa Paola di San Giovanni Galermo e gli abbia chiesto appunto di ottenere per lui questo pagamento che lui non riusciva a ottenere. Qui noi abbiamo l'ordinanza di custodia cautolare per Luca Marino ed altri 30, quelli arrestati nella grande retata, e poi abbiamo anche le intercettazioni operate dal ROS dei Carabinieri, dai quali si evince chiaramente che il signor Sicurella si è rivolto a questo capo mafia per ottenere il suo credito. Ora, noi chiediamo alle associazioni gattine e alle autorità ecclesiali che cosa intendono fare con questa notizia, perché se hanno fiducia nell'investigazione della magistratura e dei Carabinieri e allora devono decidere che cosa vogliono fare, se vogliono prendere le misure e quale misure vogliono prendere. Questa è la nostra domanda, proprio per la credibilità delle elezioni e per fare un pochino di pulizia anche in questo ambiente che ancora porta in marchio in alcuni casi del passato. La cronaca. Armato di bastone minaccia prima la ex e poi i Carabinieri. Arrestato un 26enne di Gran Michele in provincia di Catania, già gravato da precedenti, ritenuto responsabile di atti persecutori, non avendo accettato la decisione della ex fidanzata di troncare la loro storia, ha iniziato a perseguitarla con telefonate, messaggi e pedinamenti fino ad affrontarla e minacciarla. Armato di bastone si è presentato sotto casa. La ragazza ha chiesto aiuto. Al 112, il giovane ha brandito il bastone anche contro i militari prima di essere bloccato. Adesso si trova agli arresti domiciliari. A Piazza Armerina, nell'Ennesi, arrestati due pregiudicati per furto aggravato ai danni di una stazione di servizio. Hanno fatto irruzione in un'area di servizio Enni di Via Manzoni a Piazza Armerina, nell'Ennesi, forzando la porta in metallo, posta sul retro e poi entrando nel bar. Da qui hanno portato via 3.200 euro sigarette e grattevinci per un valore di circa 1.000 euro. I poliziotti del commissariato di Piazza Armerina e di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato Giovanni Mirisciotti, di 42 anni, Giuseppe Aguglia, di 26, con le accuse di furto in concorso pluri-aggravato. I due sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di Chiavi e Grimaldelli. Aguglia è stato anche segnalato per violazione di domicilio. Agenti di polizia e militari si sono recati in Via Manzoni, dove il proprietario dell'area di servizio è riferito di aver notato due persone a scavalcare una recinzione. Mirisciotti è stato rintracciato all'interno di una Peugeot 206. Il complice, invece, si è dato alla fuga a piedi attraversando i terreni vicini al distributore. Nella corsa ha lasciato cadere l'area furtiva, denaro ed attrezzi utilizzati per lo scasso. Sono stati trovati 83 pacchetti di sigarette e soldi contanti per un valore complessivo di circa 500 euro. Il ventisenne è stato poi rintracciato nella sua casa addosso ai segni della fuga durante la quale si era ferito. I due, su disposizione della Procura della Repubblica di Enna, sono stati condotti in carcere. E adesso a Catania. Con l'arrivo dell'estate sale l'attenzione della questura sul fenomeno della sicurezza in centro. Maggiori controlli sulla Movida. Al servizio di Francesco Larosa. Con l'approssimarsi della stagione estiva si alza la soglia d'attenzione delle forze dell'ordine nel controllo del territorio. Particolare attenzione in riferimento alla Movida catanese con misure già opportunamente predisposte dalla questura di Catania. Sì, assolutamente sì. Noi stiamo già da tempo lavorando su questo tema. Non siamo all'anno zero. Però adesso stiamo cercando di organizzarci ancora meglio. Il prefetto ha organizzato numerosi tavoli nei quali si stanno studiando tutti gli accorgimenti per poter rispondere in maniera sempre più adeguata a questo fenomeno della cosiddetta Malammovida che è un fenomeno generale che esiste in tutte le grandi città di tutto il mondo e che ha degli aspetti positivi da un certo verso sul piano commerciale, sul piano economico ma l'altra faccia della medaglia sono tanti aspetti negativi che si deve cercare di combattere tutti insieme. Non è ovviamente solamente un fatto di repressione è un fatto di gestione ma noi come forze di polizia sicuramente dobbiamo fare la nostra parte e magari forse dobbiamo fare ancora meglio. Ci sono dei punti sensibili nello specifico? I punti sensibili sono i punti di aggregazione di queste persone che purtroppo sono molto ristretti le strade sono quelle che sono e quindi si ritrovano decine di migliaia di persone in posti molto concentrati questo naturalmente aumenta il rischio aumenta la pericolosità aumenta i fastidi per i residenti insomma sono problemi di non facile momento che devono trovare, ripeto, una soluzione attraverso questi tavoli che il prefetto egregiamente sta organizzando in cui ci sono tutte le componenti dal volontariato, dai comitati dei cittadini al comune, alle forze di polizia. Insomma una prevenzione sostanziale? Una prevenzione reale solo così oggi si possono risolvere i problemi la prevenzione deve mirare alla radice delle problematiche non deve solamente tamponarle solo così si può avere un miglioramento reale. Incidente stradale autonomo all'alba di oggi lungo la strada provinciale 13 l'arteria stradale che collega Motta Sant'Anastasia con la base Nato di Sigonella un giovane di nazionalità statunitense e la guida di un'auto ha perso il controllo per cause ancora da accertare l'auto è uscita di strada distruggendo due pali della Telecom e finendo in una piccola scarpata il giovane fortunatamente non ha riportato ferite gravi caos e sosta selvaggia nel cuore di Acireale proprio in Piazza Duomo e sotto gli occhi della Polizia Municipale guardiamo queste immagini realizzate proprio stamani Piazza Duomo da Cireale in preda alla sosta selvaggia di agenti della Municipale solo sporadiche apparizioni una brutta cartolina della città turistica nell'era del cambiamento solo annunciato auto parcheggiato ovunque anche al centro della carreggiata come questa vettura in sosta per diversi minuti nell'indifferenza generale i vigili intervengono su segnalazione multano ed evaporano sanzioni solo ai più sfortunati sebbene indisciplinati non un controllo costante come dovrebbe essere per una città che si professa civile e desiderosa di cambiare la zona 30 buona l'idea un disastro nella realtà dal momento in cui la Municipale motorizzata passa, vede e non provvede a sanzionare gli indisciplinati oltretutto multare a macchia di leopardo senza presidiare stabilmente almeno il cuore storico della città è una beffa per i malcapitati grave che i vigili intervengono e non vedono o fanno finta di non vedere come testimoniano le immagini girate in un giorno di ordinaria folia ogni santo giorno dal momento in cui i vigili esercitano il loro compito applicando un brogliaccio di servizio discutibile ora sì, ora no peraltro ignorare la presenza di auto in sosta selvaggia non è pratica concessa a chi indossa una divisa si stava meglio quando si stava peggio con la ZTL che almeno liberava il centro dalle auto in maniera permanente e i vigili urbani di presenziare di intervenire per tutti e non per i pochi sfortunati sebbene vada a sé indisciplinati ed ora a Catania per fare il punto sulle strutture balneari comunali il solarium antistante il nautico sarà pronto entro il mese diversa rimane la situazione per quanto riguarda la piattaforma di piazza Europa permane l'incertezza la gara era andata deserta il comune adesso ha riaperto la manifestazione di interesse rivolta ai privati sentiamo sono già partiti i lavori del solarium antistante l'istituto nautico di Catania realizzato con fondi provenienti dalla tasse di soggiorno direttamente dal comune catanese la piattaforma tanto apprezzata dai catanesi che potranno così fruire di un pezzo di scogliere altrimenti praticamente inaccessibile verrà completata secondo le previsioni entro fine mese per essere già dunque fruibile nei primi giorni di giugno tempi lunghi invece per il solarium di piazza Sciascia lato mare di piazza Europa ancora appeso ad un filo il comune non ha i soldi per realizzare direttamente la struttura e ha già chiesto ai privati interventi diretti con in contropartita la gestione dell'impianto una prima manifestazione di interesse è andata deserta adesso l'amministrazione pogliese ha nuovamente pubblicato una scadenza quella del 24 maggio per la presentazione di eventuali proposte abbiamo fatto un avviso invitando naturalmente i privati ad aderire così come abbiamo fatto per Natale e per Capodanno in questo momento non registriamo adesioni sufficienti alla realizzazione della struttura abbiamo lasciato i termini aperti e confidiamo che qualcuno faccia delle valutazioni perché alla fine installare un bar e avere una possibile proroga di altri due anni rispetto ai primi due iniziali significa recuperare abbondantemente l'investimento per il legname quindi vediamo se sarà possibile dare questo ulteriore tassello all'estate catanese fermo restando che oltre al solarium del nautico che contiamo di consegnare della prima settimana di giugno la passarella di Licuti che abbiamo già deliberato che sarà fatta a seguire anche le spiagge libere già sono pronte predisposte ripulite bonificate all'atredo all'amianto e quindi sono già pronte all'utilizzo e potremmo anche in questo senso consegnarle i primi di giugno a cittadini e turisti Disco Verde dicevamo all'inizio per il solarium che sta nascendo di fronte all'istituto nautico sì ci erano impegnati in questo senso i lavori che hanno preso via l'altro ieri stanno procedendo in modo molto spedito contiamo di avere entro fine mese tutto consegnato e quindi poter inaugurare i primi giorni di giugno così per come ci eravamo impegnati tornando alla piattaforma di Piazza Europa a carico del privato sono previsti alcuni servizi tra questi il salvataggio e il primo soccorso l'allestimento dei bagni chimici o delle strutture modulari l'attività di pulizia costante giornaliera dello stesso solarium in contropartita il privato avrà a disposizione spazi per eventuali sponsor commerciali potrà installare i chioschetti bar anche un ticket per eventuale utilizzo di sdraio lettini oppure ombrelloni seppure in un'area ben delimitata della stessa piattaforma secondo quello che è il progetto approvato ora a tre mestieri etneo il voto e risposta sul regolamento cimiteriale dopo le accuse dell'opposizione replica il presidente del consiglio comunale polemiche sterili il servizio di Guenda Garozzo le questioni sollevate dalla portavoce al consiglio comunale di tre mestieri etneo dei 5 stelle Simona Pulvirenti sono polemiche sterili ne è certo il presidente del civico consesso Ferdinando Smecca che replica le rimostranze dell'esponente grillina sul regolamento di polizia mortuaria approvato in commissione affari generali la scorsa settimana e per il quale la consigliera aveva presentato un emendamento secondo il presidente della stessa commissione Giulio Pasqualini poco snello per essere preso in considerazione entrambi così stamani ai nostri microfoni la creazione di un albo per le imprese per creare una rotazione ma c'è un mercato di libera concorrenza infatti come ha detto Pocanzi c'è un mercato di libera concorrenza ecco perché su quell'emendamento che ha presentato il consigliere 5 stelle abbiamo dovuto dissentire in quanto non ci possiamo permettere assolutamente di creare delle rotazioni oppure fare un sorteggio come enunciava lei durante l'emendamento ci sono poi i problemi legati agli orari di apertura si sa che durante le funzioni comunque non si può non considerare un minimo di elasticità ecco non si può si deve considerare l'elasticità è importante essere elastico soprattutto in un momento molto delicato per quelli che sono i parenti appunto delle salme sulla questione cremazione invece sulla questione cremazione sono stati già inseriti quelli che sono degli articoli appunto che la stessa legge i stessi decreti legislativi ci hanno indicato e noi ci siamo attenuti realmente a quello che è la legge attuale e poi c'è invece il problema del cimitero degli animali che è stato previsto ma non ancora regolamentato allora in realtà io mi permetto di inserire perché comunque sì noi all'articolo 86 abbiamo previsto quello che è il cimitero degli animali di affezione lei nell'emendamento inserì un ulteriore regolamento che andava ad appesantire quello che era l'regolamento attuale che già presenta circa 100 articoli mi dispiace di sentire da quelle che sono state le dichiarazioni della collega Pulvirenti ma il regolamento è stato trasmesso in commissione già da oltre due anni quindi tutti i consiglieri comunali hanno avuto la possibilità di discutere di fare delle modifiche a regolamento stesso ma la collega Pulvirenti ha pensato bene di presentare un emendamento in consiglio comunale che stravolgeva del tutto quella che era stata l'impostazione data dalla commissione e pertanto il consiglio comunale non ha ritenuto possibile approvare le proprie le modifiche richieste alla collega Pulvirenti proprio anche per una questione di tempistiche visto che in un'ora in due ore era impensabile modificare tutto quello che era il lavoro svolto negli ultimi due anni pensate che si tratti di polemiche sterili ma sicuramente quelle che sono state le richieste della consigliera Pulvirenti viste nel dettaglio anche con i colleghi che hanno esaminato il regolamento ci fanno dire di sì votiamo pagina senza zaino dei oggi in tutta Italia studenti in piazza anche ad Acireale hanno personalizzato la manifestazione distribuendo cartoline da loro realizzate invitando alla gentilezza gli studenti dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Acireale in occasione dell'iniziativa senza zaino dei pratiche applicate con successo da anni tra le prime scuole in Sicilia hanno voluto ricordare l'avvenimento coniugando il momento con la giornata della cortesia e della gentilezza occupando gioiosamente alcune piazze della città e distribuendo cartoline disegnate dagli scolari con aforismi di cordialità una lezione di educazione civica collettiva che ha coinvolto familiari e passanti in piazza Duomo come ad Aciplateli in piazza Vigo e nella piazzetta Garibaldi con decine di post-it incollati su striscioni e centinaia di cartoline omaggiate ai pedoni da spedire o collezionare una giornata di festa di riflessione sul valore sociale del vivere in buona creanza con gentilezza e cortesie e l'impegno di essere gentili con il prossimo quotidianamente un'idea semplice quanto efficace che gli studenti hanno saputo interpretare con impegno per un giorno senza cellulari o smartphone che in effetti non si sono visti oggi è la giornata nazionale del Senza Zaino Day la tematica di quest'anno sono le parole gentili quindi la Giovanni XXIII con tutti gli alunni della scuola secondaria e primaria si propone oggi di diffondere le parole gentili a tutta la cittadinanza i ragazzi diffonderanno ai cittadini e ai turisti delle cartoline raffiguranti la città di Cireale realizzata dagli stessi ragazzi con trascritte quelle che loro ritengono siano le parole che sono un po' cadute in disuso quali grazie prego donare donare ecco quelle che sono le parole gentili la gentilezza le azioni gentili a chi ci segue a chi ci vede la religia è una lezione di civica creanza sì perfettamente educazione civica torniamo ad essere la Giovanni XXIII ci tiene tanto che i ragazzi comincino riprendano quelle che sono le normali azioni gentili e ne approfittiamo oggi con le piazze di Acireale siamo presenti nelle maggiori piazze di Acireale e nella piazza di Aciplatani dove diffonderemo questi post-it con le parole gentili quelle che i ragazzi hanno scelto essere fondamentali per condividere la gentilezza e a Milo invece nasce un comitato per Franco Battiato l'artista che da sempre ha un forte legame con la cittadina etnea sarà presto costituita anche una fondazione a Milo nasce il comitato Milo e Franco Battiato che ha l'obiettivo di varare una fondazione dedicata alla figura poliedrica multiforme spirituale dell'artista è costituito da un nucleo di professionisti e tecnici presieduto dal sindaco di Milo Alfio Cosentino e intende portare avanti iniziative multidisciplinari ispirate a temi artistici culturali umani e filosofici che ripercorreranno le molteplici attitudini di Battiato uomo ma anche artista riservando un'attenzione particolare a ciò che da sempre lo ha maggiormente ispirato la tensione verso il sacro un vero e proprio ceracolo creativo in cui coltivare arte e conoscenza uno strumento per celebrare approfondire salvaguardare dibattere i temi cari all'artista anche nel contesto territoriale del vulcano Etna in cui è nato e che tanto lo ha ispirato dove ha deciso di vivere e operare in questa cornice a praino tra i vigneti e la vegetazione fitta a pochi passi dal centro questa di fatto è una fase propedeutica alla nascita alla costituzione vera e propria di una fondazione per l'artista sì questo è l'obiettivo che ha il comitato appunto che nasce proprio per l'amore di tutti i componenti nei confronti di questo artista che così tanto ha dato al nostro territorio appunto si vuole empatizzare quello che è il legame che l'artista ha con il territorio di Milo e in particolare ma un po' con tutta la zona ionico etnea cioè l'Etna come come dire fonte di energia che sicuramente il nostro battiato ha attinto a piene mani per sviluppare la sua arte sulla possibilità di far divenire la sua abitazione attualmente in vendita luogo di cultura Cosentino aggiunge c'è invece chi sostiene che sarebbe il caso di preservarla magari di acquistarla da parte della SIAE per farne un polo culturale chiaramente certo sarebbe importante che diciamo la destinazione di questa struttura visto che c'è questa volontà da parte di chi di dovere insomma di metterla in vendita fosse destinata diciamo a delle cose importanti cioè oltre sommato è un luogo che ha rappresentato che rappresenta sicuramente tanto penso per l'artista quindi per il territorio quindi sarebbe bene preservarla e magari creare qualcosa insomma che sia un cenacolo per artisti musicisti di vario genere tant'è che c'è oltretutto l'arte di battiato diciamo è poliedrica lui si è cimentato in tante discipline riuscendo in maniera esemplare in tutte quindi potrebbe essere un'idea insomma questa qua ecco il fatto che la fondazione non sia la costituzione di una fondazione non sia ancora immediata comunque non esclude che la stessa possa acquisire il bene nel tempo ma guardi non lo so potrebbe anche essere e su piazza Patanè ci spostiamo ad agire alle serve vicino l'accordo tra il comune e di privati mancano soltanto gli ultimi dettagli ci sono però voluti 43 anni salvo Cutuli A Cileale piazza Patanè uno slargo sconosciuto ai tanti eppure fondamentale per chi risiede tra via Michele Laspina e via Grassi Bertazzi in un'area densamente popolata priva di parcheggi questo spicchio di verde con stalli al centro di un contenzioso con il comune che si trascina da 43 anni era il 1986 quando il comune e proprietario dell'area avviarono ognuno con le proprie ragioni lo scontro legale che in questi lunghi anni ha prodotto tutta una serie di provvedimenti senza una soluzione definitiva capace di mettere le parti d'accordo adesso forse si potrà scrivere la parola fine a complicato contenzioso da una parte i due proprietari della piazza dall'altra il comune che tra ordinanze di utilità ed espropri con somme versate nel tempo ai legittimi titolari ha comunque sostenuto delle spese quantificate in circa 200 mila euro il giudice ha stabilito che l'area deve essere restituita ai proprietari i quali dovranno corrispondere al comune le somme degli espropri versate 40 anni dopo comune e privati tentano la via della conciliazione per chiudere l'intricata vicenda senza oneri ulteriori per le parti l'amministrazione comunale incamera l'area nel patrimonio pubblico mentre i proprietari come contropartita chiedono di entrare in possesso di questo manufatto che si da poco tempo fa ospitava la sede locale della Croce Rossa italiana il primo cittadino Stefano Lì si dice possibilista è una piazza utilizzata come posteggio l'unico posteggio in quella zona quindi un polmone importante su cui tanti cittadini mi hanno espresso le loro preoccupazioni nel tempo e che ha dato l'avvio a tutta una serie di procedimenti che si sono susseguiti nel tempo il giudice ha deliberato nei vari giudizi ha deliberato che l'area è proprietà dei privati su questo c'è una una sentenza definitiva siccome però nel frattempo il comune aveva pagato una serie di espropri di somme per esproprio adesso abbiamo un'area vera in cui avremmo diritto a una restituzione di somme per quelle pagate nei vari anni e però contemporaneamente ci sono condenziosi richieste anche intorno alla decina di milioni di euro da parte dei privati per i danni che hanno subito nel tempo allora l'ultimo incontro è stato venerdì scorso in cui era prevista la restituzione dell'area perché il giudice ha così determinato e quindi noi dovevamo restituire l'area ai legittimi proprietari che avrebbero dovuto chiuderla e renderla privata allora in sede di sopralluogo di consegna dell'area è nata è stata manifestata la disponibilità ad divenire a una transazione che chiudesse tutto tutto il procedimento e in questi giorni avantiieri è arrivata una proposta dall'avvocato effettivamente che mette nero su bianco questa volontà di chiudere tutto quanto il pregresso di chiudere tutta l'operazione e il comune diventa legittimo proprietario dell'area chiaramente non rientra delle somme che era stato previsto di cui sarebbe dovuto rientrare per perché l'area era del privato e chiedono in più il fatto che dei locali dei depositi che sono stati realizzati all'interno diventino di proprietà del privato io credo che questa operazione su cui chiaramente adesso mi devo confrontare con gli uffici per dare una valutazione della proposta credo che il segretario prevede che ci sia un passaggio dal consiglio comunale per legittimare quest'operazione ma credo che sia un passo importante perché è un'area necessaria per quella zona visto che il posteggio è sempre pieno e quindi è importante che possa rientrare e possa restare definitivamente nella proprietà dell'ente eutanasia ed accanimento terapeutico in punto di morte l'argomento delicato divide l'opinione pubblica anche la giurisprudenza in merito non è chiara se ne è discusso a Catania quella della fine vita è di certo questione impegnativa tema di grande attualità che divide l'opinione pubblica su cui l'associazione scienze vita ha voluto ieri accendere i riflettori per fare informazione e formazione per la maturazione di una coscienza civica consapevole e così l'ospedale Garibaldi di Catania ha ospitato il convegno dal titolo il fine vita tra accanimento terapeutico ed etanasia l'ordinanza della consulta sul caso Cappato al centro questione di diritto costituzionale di medicina di bioetica se per i medici l'eventuale introduzione nell'ordinamento di forme di eutanesia determinerebbero la violazione del codice deontologico vi è anche un preciso monito da parte della corte costituzionale nel caso in cui un malato affetto da una patologia irreversibile rifiuti le cure palliative e la sedazione profonda e chieda per ragione della propria dignità la morte come strumento di liberazione vi è poi il fronte giuridico una timida innovazione comporterebbe anche il contrasto con una serie di norme che mirano alla tutela della vita come diritto indisponibile l'associazione scienze vita sulle proposte di legge in materia di rifiuto dei trattamenti ha precisato di essere contraria a qualsiasi ipotesi che renda legale l'eutanasia in tutte le sue forme sicuramente no all'accanimento terapeutico problematica è la visione che si prospetta qualora il legislatore dovesse aprire al suicidio assistito la corte di fatto dà uno spunto nel senso che in situazioni particolari come quello che si è verificato con il caso di G. Fabbo dovrebbe il legislatore dovrebbe legiferare per dare la possibilità di anticipare il fine vita noi scienze vita sostiene che la legge del 2017 la 219 del 2017 con le date consente di avere una fine vita dignitosa cioè non operiamo nell'anticipare il fine vita ma cerchiamo di fare in modo che le ultrafasi finali della vita delle persone siano vissute in maniera dignitosa se è possibile farlo già con gli strumenti della 219 del 2017 in particolare con le cure palliative che vanno implementate che vanno applicate con i LEA è previsto che con la legge del 2010 la 38 del 2010 siano applicate e facciano parte dei LEA il tema il tema è legato all'intervento di oggi che è il fine vita con l'eutanasia cioè affrontare la puntista non soltanto medico e scientifico ma anche giuridico qual è l'aspetto noi viviamo in un sistema in cui ricordo a tutti il diritto inviolabile che è quello alla vita quindi è chiaro che poi i casi che si sono ricorderete la cronaca i casi Inglaro il caso del DJ Fabbo di recente pone un problema lo dico da giurista di aggiornamento del diritto alle nuove tematiche che la stessa scienza pone allora il tema in cui si dibatte oggi è anche perché per senso della sentenza della Corte Costituzionale che dice al legislatore di rivedere l'aspetto normativo su questo tema quindi il tema è affrontare in maniera serena quelle che sono tematiche spinose e dal punto di vista medico e dal punto di vista evidente l'assistenza sanitaria che va data il tema è fin quando ci si può spingere ma questo lo potrà dire soltanto il legislatore Non ci sono aggiornamenti ci fermiamo qui dunque per questa edizione la prossima in diretta alle 19.45 come sempre adesso vi lascio alle previsioni del tempo vi auguro buon pomeriggio le previsioni meteo per la giornata di giovedì 16 maggio 2019 ancora pioggia precipitazioni a carattere temporalesco instabilità diffusa in Sicilia i mari da calmi a poco mossi le temperature la più alta 20 gradi ed aggrigento seguono Catania e Siracusa cui massima è di 18 gradi 17 a Palermo e Trapani nelle zone interne 11 gradi la massima 6 la minima in Sicilia che facciamo a Caffani succede